Il sindaco di Firenze conferisce i chiavi della città a Leonardo Pieraccioni con i suoi film commedia, Giorgio Panariello spaziando al teatro al piccolo e grande schermo, Carlo Conti in tv a tempo pieno, un regista, un attore, un presentatore. Hanno cominciato insieme con il trio Fratelli d'Italia del 1993, poi hanno imboccato strade diverse, ma a fine ricevendo molteplici riconoscimenti nel cinema, in tv, in teatro, in show, in fiction e spaziando anche nel campo musicale, risquadendo un enorme unani di successo e facendo conoscere la comicità fiorentina in Italia e nel mondo. Per l'indiscusso estero, la brillante creatività, la spiccata identità con la fiorentinità, il sindaco di Firenze e Dario Mandella conferisce le chiavi della città a questi tre talenti della nostra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.